Hello guys e benvenuti in questo nuovo video in questo speciale dedicato al raggiungimento dei 3500 iscritti finalmente Scusate se non ho caricato alcun video prima di questo ma son sceso giù a sud e indovinate chi ha dimenticato il cavalletto a casa qua a Roma Io Chi è che ha anche dimenticato il microfono per fare qualche profile magari su Dueling Network? Io Chi è che si sta cagando addosso? Io Comunque cagate a parte in tutti i sensi In questo speciale apriamo un altro prodotto vintage In questo caso il Duelist Pack di Kaiba Che è uno dei prodotti che ha più segnato la mia infanzia Vabbè anche da dire che la prima serie ha segnato l'infanzia della maggior parte di noi In cui si trovano carte interessanti Tra cui mi ricordo almeno all'epoca uscì il Malefic Blue Ice White Dragon Però diciamo le carte più soccose al loro interno erano per l'appunto L'Anfora dell'Avidità Ultimate, la Cybergear Ultimate, il Chaos and Dragon Ultimate Insomma un sacco di robe carine Ultimate Qui abbiamo 20 pack nella speranza di trovarli e si sono un pochettino attaccati ho paura di quello che ci abbiano fatto con questi Quindi detto questo direi di cominciare con l'apertura Ma prima di farlo se non sei iscritto al canale Ti piacciono contenuti vintage che siano di Edison, Tenguplant Insomma tutto ciò inerente ai retroformat Quindi anche unboxing di questo tipo Iscriviti al canale È gratis, non costa nulla e soprattutto supporta notevolmente il mio lavoro E ho inoltre notato che la maggior parte di voi guarda i miei video ma non è iscritta appunto al canale Quindi se ti piacciono appunto contenuti del genere Iscriviti, saremo molti di più nei 3500 Se lo faceste è un piccolo gesto che aiuta a contribuire al mio lavoro Quindi ripeto se ti piacciono appunto i contenuti di questo tipo Siamo amanti di Yu-Gi-Oh e del vecchio Yu-Gi-Oh Sei il benvenuto sia qui che nella mia community Quindi puoi seguirmi anche su Instagram e social e roba varia Io quindi nella speranza di riuscire a staccare questi pacchettini in un lato Che sono incollati con qualcosa come vedete Sembrano non resegillati Comincio ad aprirli Sono prodotti che sono abbastanza difficili da ritrovare Quindi per i 4000 iscritti ragazzoli Io ovviamente cercherò qualche altra cosa vintage Allora, quindi abbiamo Cavaliere Familiare Il Giudicatore Maremma Mia I gialloni pelli dell'epoca Signore di Draghi dovrebbe essere Ritorno nell'altra dimensione Ok, abbiamo una Super XY Canone Drago Quindi abbiamo anche appunto dei mostri che sono abbastanza conosciuti nella serie Per quanto riguarda almeno Kaiba Quindi come dicevo prima La nostra speranza, la mia speranza È quella di trovare per l'appunto Una, almeno una Ultimate Che sia una Pot of Creed sarebbe meglio E come potete vedere sono tutte carte diciamo inerenti alla prima serie Quando dovrebbe esserci nulla E per il Cloud School che questo per un periodo si è giocato Ma attenzione al Ruining perché è un quando non è un se Quindi perde timing in alcune occasioni Quindi fate attenzione a queste piccole cose Poi se volete una delucidazione sul timing magari posso farci anche un video in merito Quindi Lampada Antica Sempre Asciata Guerra Infuriata Quello che sapremmo noi se non dovessimo trovare almeno un Ultimate Spada in Aguato Che poi guarda che bello C'è la semplicità di alcuni artwork vecchi Meravigliosi Che poi c'è da di ragazzoni C'è da fare anche una bella discussione E' vero che gli artwork di Yugi si sono cambiati rispetto al passato Ma quelli di ora sono una figata assurda Cioè per quanto appunto siano abbastanza singolari quelli vecchi C'è da dire che quelli nuovi sono veramente assurdi Ok non abbiamo nulla perché ammazza al contrario Questo per arrivare non dico risigilato ma quasi Ok Speriamo di trovare la foto Non mi fa dire le parole E a proposito di Kaiba Ragazzuoli Che è appunto uno dei personaggi più iconici della serie Ho aperto anche la Legendary Collection di Predator Revolse 1009 giallone fortissimo Dicevo ho aperto la Legendary Collection di Kaiba per l'appunto Che sta nelle varie Una di una playlist della Legendary Collection O dei prodotti vecchiotti Diciamo prossimo obiettivo Avrei in mente un particolare prodotto Da sbustare però Ok abbiamo la foil Oddio Speriamo che sia O il virus O il ring of destruction ultimate Vediamo No Ritorno in un'altra dimensione Però Super Non è una brutta carta Non è affatto malaccio Affatto malaccio Perché sì Un po' me le ricordo qualche carta vecchia Che si potevano trovare foil Fortunatamente sono abbastanza individuabili Almeno per quanto riguarda le opening Per l'appunto Dato che la rara sta Prima della foil Di norma Poi ci può anche essere Qualche eccezione Sarebbe carino Magari nel formato GOT Che non è uno dei formati In cui sono più ferrato Onestamente Per quanto sia Uno dei più popolari Se non il più popolare Assieme ad Edison Faremo qualche decor file Con lui Però ripeto Difficilmente potrò portarla sul canale Perché non lo sento fra le mie corde Tuttavia ci sta appunto Manco a dirlo Ci sta il server discord Sul mio canale Qui appunto organizziamo qualche ventino Ogni tanto Siamo un pochettino Siamo quasi Di fare quasi 90 Se non più Non ricordo onestamente Un bel po' Che non ci do Troppo l'occhio Al numero di membri Quindi Caso che vogliate Farne parte E soprattutto anche Seguirmi sui social Instagram Per ruba varia Siete assolutamente I benvenuti Si parla di tutto Di tutti Ovviamente no Perché Quello che miro È creare una community Non tossica Anzi Un po' Rivivere il gioco Come all'epoca Come da bambino Un po' difficile Visto che diciamo Lo spirito agonistico È maggiore Quando sei più grandi Però Come dire Mai dire mai Signore Quindi niente Predatore Forse Ero anche tentato Addirittura Di aprire tutti i pacchetti E magari Fare direttamente Tipo il reveal Finale Con Con l'ultima Allora Più o meno ragazzi Diciamo Sono 20 pacchetti In totale Non mi ricordo Se ve l'ho detto Mi sarei fatta Un'idea delle carte Che si trovano All'interno Capisco Ste carte Messe al contrario E Difficilmente Credo Riusciremo A trovare La La carta Da noi Desiderata Però Noi ci proviamo Noi Non ci dobbiamo Credere Perché nel momento In cui ci credete Non succede O dovete essere Veramente convinti 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 Un po' Come sentivo Quella volta Che Vabbè Non c'entra con i Yuki Ma con One Piece Il Dodo Doing Il famoso Dodo Doing In cui cercavo appunto In realtà La manga Però alla fine Ho trovato la carta Quella firmata Di Oda Di Oda In OP05 C'è anche il video Caso che Siate interessati Al mondo Di One Piece Anche se Onestamente Mi sono Un pochettino Allontanato Diciamo Per Lo stress Che si era Creato Con La situazione Diciamo Che girava In merito Ai Box Poco reperibili I prodotti Che dovevi Che ordinarli In anticipo I bagarini Che appunto Andavano Fare ordini Di massa Ti costringevano Quasi A Comprare Da loro I box A pezzo Praticamente Addoppiato Che Madonna mia Basta Questo Kaiser Glider Oh Stiamo trovando Solo Letteramente Questo Allora Ci mancano Uno Due Tre Quattro Cinque Sei pacchetti E abbiamo trovato Soltanto Due Fuori Io Come al solito Ragazzi Sono sempre Acquisti Che sconsiglio Di fare Voi Perché Costicchiano Poi se volete Avere il piacere Di sfrustare È un'altra cosa Però dovete Entrare Nell'ottica Che almeno Questi video Li faccio Cerco ovviamente Di rientrare Nelle 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 Spese Quello È normale Tant'è che Ho uno store Qui Lo metto Qui sotto In descrizione Su Cardmarket In cui Per l'appunto Vendo Carte singole Che sono Per la maggior parte Anche quelle Che trovo Nei box Che apro Qui Nei video Con voi Per entrare Nelle spese Però Vi sconsiglio Appunto Di farlo Perché Può essere Diciamo Una spesa Abbastanza Esigente Mettiamola Così E Difficilmente Riuscire A rientrare A meno Che Poi Non abbiate I soldi Per comprarvi Un box Di Assalto Dal Gragliatore E Ruba Così Seppur Non credo Riusciate Rientrare Delle spese Visto Che Quel box Costi Più Di 3000 Euro Probabilmente Ma Quello È un altro Dettaglio E infatti Non stiamo Trovando Veramente Più Nulla E i miei sospetti Sul pack Vabbè No Non è vero Non credo Siano risigillati Però Porca miseria Nemmeno Una Ultimate O Semplice Ultra Su 20 20 Bustine C'è anche Da dire Che Non essendo Un box Sigillato Difficilmente Diciamo Hai La Come dire La sicurezza Di poter Trovare Diciamo Il classico Garantito Da Ogni box Ragazzoli Se vi interessa Ovviamente Io probabilmente Lo farò A prescindere Però Prima Abbiamo La foil E Un mostro Però Non dovrebbe Essere Forse Una super Perché Non mi Ricordo Oh Il Blue Ice White Dragon Effettivamente Era super Non ultra Da questo Pack Con Disegno Diciamo Quello Dell'anime Molto Molto Carino E ce Lo Imbustiamo Non è Una carta Di chissà Quale Grande Valore Onestamente Diciamo Che di drag Bianchi Ce ne Stanno Tanti Veramente Tanti Sicuramente Questo Non è Il più Goloso Mettiamola Così Però Diciamo È sempre Una carta Apprezzata Da Ritrovare Certo Dal mio Punto Di Vista Meno Rispetto Al Chaos Emperor Dragon Ultimate E Io Non mi Ricordo Più Cosa Stessi Dicendo Prima Non Mi Ricordo Proprio Quindi Continuerò Ad Quindi Ragazzoli Questo Diciamo Era Il Recap Per quanto Riguarda Queste 20 Boost È andata Male Sì Poteva andare Peggio Quello Assolutamente Vero Almeno Abbiamo Trovato Diciamo Una Cartina Simbolica Appunto Per Il Pack Di Seto Kaepa Che Ancora Mi Chiedo Il Motivo Per Cui Siano Così Appiccicosi E Ora Mi Sono Ricordato Quello Che Stato Dicendo Prima Per Quando Stesso Ho Uno Due Box Però Fatemi Sapere Qui Sotto Magari Se Siete Interessati Magari A Volerlo Vedere In Live Mentre Lo Apro E Vero Anche Un Canale Twitch Però Lo Uso Veramente Pochissimo Sto Ciclando Un Po Di Recuperare Il Tempo Visto Che Sono Parecchio Impegnato E Niente Ragazzoli Io Vi Ringrazio Ancora Una Volta Per Guardate Il Variante Gladiatore Bestia In Arrivo E Speriamo Anche Qualche Altra Profile Con Amos Non Appena Ho Tempo Di Tornare In Negozio Quindi Grazie Per Aver Visto Il Video A Questo Punto E Arrivederci E Al